So che il comitato ha invitato il nostro presidente, purtroppo oggi è in Lussemburgo, però era fortemente intenzionato a partecipare e anche un collega di molti di voi, esatto, e quindi veramente era molto dispiaciuto. In ogni caso spero immeritatamente di sostituirlo. Abbiamo preparato un intervento nel quale vorrei raccontarvi qualcosa che forse non tutti sanno perché l'Istat viene associato poco al fatto che produce informazione statistica anche su delle tematiche dell'area ambientale e in particolare in questo caso sulla tematica delle aree urbane e sul verde in particolare. Quindi questa presentazione utilizza dei dati che vengono prodotti da un'indagine che l'Istat svolge annualmente dedicata alla qualità dell'ambiente urbano e una delle tematiche di indagine è proprio il verde. Quindi vi parlerò di questo, di una serie di numeri che noi deriviamo da questa rilevazione e poi di qualche numero in più che abbiamo raccolto per iniziare l'attività di monitoraggio della legge, ottima legge 10 della famosa legge Atelli e delle brevissime conclusioni. Quindi come vi dicevo questa indagine è svolta circa da più di 10 anni e ha 8 tematiche di indagine, una di queste è il verde e rileviamo una serie di informazioni quantitative sulle dotazioni complessive, sulle tipologie che caratterizzano le aree del verde urbano e una serie di ulteriori informazioni anche a carattere qualitativo, diciamo descrittive delle caratteristiche di queste dotazioni. Ci occupiamo anche degli strumenti di governo e programmazione e stiamo integrando questo questionario soprattutto negli ultimi 4 anni consistentemente in collaborazione con altri colleghi ed esperti in particolare dell'ISPRA e nell'ultimissimo anno, negli ultimissimi due, anche proprio per cercare di corrispondere l'esigenza di monitoraggio dell'attuazione della legge. I dati che vi mostro sono alcuni già visti perché li ha esposti anche il collega che mi ha preceduto come elaborazione dell'ISPRA e effettivamente noi li rileviamo e li condividiamo con la comunità. Scusa che mi dicono, non possono registrare bene se tocca il microfono. Abbiamo in realtà già i dati dell'anno 14 e verranno diffusi in occasione della prossima relazione al Parlamento che il Comitato annualmente produce per lo stato di avanzamento e di attuazione della legge. Quindi questi numeri sono un pochino datati, sono del 13, però in alcuni casi sono strutturali, in alcuni casi invece alcune tipologie hanno una dinamica molto accelerata e quindi effettivamente sarà utile vedere al più presto quelli nuovi. Come abbiamo detto e come abbiamo sentito, effettivamente il verde urbano nelle nostre città è certamente una ricchezza enorme, è un grossissimo capitale, sia in termini di livelli come abbiamo visto da alcuni e in ogni caso come deriviamo anche dall'indagine, poco meno del 3% della superficie complessiva dei territori dei comuni capoluogo di provincia, questa indagine si riferisce a queste entità, sono dedicati ad aree del verde urbano, complessivamente si tratta di un numero consistente di metri quadri, considerando congiuntamente questa componente, come è stato detto da altri, a quella delle aree sottoposte a protezione o vincolo che occupano un altro 15-8% in media sul territorio dei capoluoghi e come giustamente correttamente per noi è assolutamente condivisibile la superficie agricola utilizzata complessivamente, quindi un'altra componente enorme del patrimonio nazionale ma che in particolare in Italia più che in altri territori anche del confronto con i paesi comunitari, certamente caratterizza nei nostri ambiti urbani, le nostre città sono molto agricole, contrariamente a quello che l'immaginario collettivo potrebbe lasciare supporre, mediamente sempre abbiamo un 45% del territorio dedicato alle superfici agricole, con punte elevatissime, come abbiamo visto in altri contesti, Roma tra tutti sicuramente anche per conformazione amministrativa del territorio e ampiezza del territorio incluso è una fra quelle che ha una superficie più estesa. In queste città vive circa il 30% della popolazione nazionale, quindi sono realmente contesti di fortissima antropizzazione, eppure queste componenti sono quelle che le caratterizzano, quindi il verde è certamente una delle dimensioni da considerare e una degli atu da giocare per la qualità della vita, il benessere e il complessivo miglioramento del contesto ambientale ecosistemico. Le abbiamo viste queste slide presentate dal collega, un po' più nel dettaglio con delle evidenze specifiche, ci sono delle dotazioni largamente diffuse, ma ci sono alcuni contesti urbani che emergono particolarmente per queste dotazioni, in particolare potete vedere anche quelle in rosso sono le aree metropolitane di cui parlavamo, quindi sono sostanzialmente i comuni centro delle città metropolitane. Uno degli obiettivi di questa indagine è in funzione dell'evoluzione della geografia amministrativa estendere il proprio ambito di analisi, almeno per i contesti delle città metropolitane, all'effettivo perimetro di queste, che attualmente non voglia entrare sulla scelta, coincide con un nuovo ambito amministrativo che è quello delle ex province, che sono tucursate, mutuate come città metropolitane. Su questo possiamo discutere sulla funzionalità effettiva di questa transfer, però in ogni caso, come diceva il professore, ormai sono legge dello Stato e quindi è necessario produrre informazione per questi contesti, in modo che le politiche possano essere applicate in modo informato. A agosto anche Catania è diventata città metropolitana, quindi anche questo ha spiazzato noi, comunque dobbiamo aggiornare i nostri data sette che sono diventate 11 e a breve dovrebbero aggiungersi le altre due della Sicilia, cioè Messina e Palermo e Cagliari per la Sardegna. Anche in termini di disponibilità la disponibilità pro capite è elevata, ricordo che in base alla legge urbanistica datata e mai aggiornata la disponibilità media che deve essere garantita per abitante è di 9 metri quadri. La nostra dotazione nazionale è fortemente superiore, come abbiamo sentito, superiore ai 30 metri quadri e in realtà in alcuni casi è veramente molto superiore, come vedete. Anche su questo si possono aprire dei distinguo, nel senso che ovviamente non è solo una questione di livelli pro capite, ma è anche una questione di effettiva possibilità di fruizione e accessibilità. Quindi uno degli obiettivi alti che ci siamo dati, spero in un tempo medio da raggiungere, è quello di procedere a una effettiva disponibilità di informazione georiferita che ci dia la possibilità di dire quanto effettivamente queste aree sono distribuite sul territorio e quanto effettivamente risultano accessibili da tutta la popolazione. Quindi oltre a una valutazione di livello dare una misura di equità, di accesso a questo bene. oltre a essere tanto è anche molto vario, ora qui senza entrare nel dettaglio degli esperti che mi hanno preceduto, però effettivamente anche considerando le diverse tipologie di quello che noi raccogliamo al netto delle essenze e quindi insomma delle specifiche nicchie delle diverse aree ecosistemiche è proprio molto vario in termini di anche classificazione tipologie che ciascuna delle quali merita una gestione dedicata e delle valutazioni mirate perché ciascuna di queste tipologie ha necessità di implementazione diverse e quindi ciascuna città ha il proprio profilo, mediamente è questo quello che noi deriviamo, quindi la componente che vi sottolineo in particolare è quella del verde storico, il verde storico nelle città italiane è una componente enorme, si tratta da un punto di vista di metadato del verde che risulta tutelato ai sensi del codice dei beni culturali e questo per intenderci, questo dove siamo oggi, Roma ne ha moltissime di ville storiche ma in realtà è una componente che pesa per più di un quarto per tutte le città in media del territorio, quindi sono città da questo punto di vista particolarmente ricche perché coniugano la componente ambientale ecosistemica al fatto che c'è un ulteriore componente culturale fondamentale che come dicevamo e abbiamo sentito è una dimensione strategica della qualità della vita, del benessere, del paesaggio, della bellezza, del piacere di vivere o visitare questi luoghi, quindi anche è un fortissimo fattore di attrazione e con tutte le dimensioni economiche che questo richiama. da un punto di vista di pianificazione e governo non siamo messi benissimo invece nonostante abbiamo questa grossissima dotazione non ci occupiamo moltissimo di questo, quindi il censimento del verde sicuramente è lo strumento più utilizzato ma in realtà è sicuramente strategico perché dovrebbe dare la base informativa della dotazione, quindi per farci pianificazione deve essere conosciuto primariamente ma come poi vedremo anche nelle altre slide è un censimento che non sempre è esaustivo, è molto spesso e parziale riferito soltanto ad alcune aree specifiche e in alcuni casi non è nemmeno riferito quindi sostanzialmente è un'informazione estremamente poco informativa. Il piano del regolamento del verde, il piano del verde in particolare che dovrebbe dare proprio le linee guida dello sviluppo è pochissimo applicato dalle amministrazioni dei comuni capoluogo, a livello nazionale meno del 10% il che vuol dire che veramente sono numeri esigui trattandosi di un universo di 116 città, il 10% è veramente molto poco e il regolamento del verde forse è più diffuso perché ci sono problemi di sicurezza e quindi normalmente è steso anche le componenti del verde privato per cui ci sono tutta una serie infinite di disposizioni, di vincoli ma in realtà anche questo non trova larghissima diffusione il censimento di più ma come possiamo vedere, questo è già entriamo nella parte del monitoraggio della legge, soltanto 6 città su 10 lo fanno per tutto il territorio del loro riferimento amministrativo e poco di più fanno una georeferenziazione effettiva delle essenze e quindi l'informazione è molto pittorica, più che altro è soltanto tabellare e non utilizzabile effettivamente per una pianificazione mirata. Con individuazione totale delle nuove piantumazioni poste diciamo in essere in attuazione della legge 10-13 lo fa circa un quinto delle città che noi abbiamo considerato. In particolare una delle indicazioni contenute nella legge che dovrebbero contribuire alla diffusione della cultura del verde e quindi anche della percezione da parte di tutti della cittadinanza dell'importanza di questa componente è quella di promuovere iniziative in occasione di una giornata come quella che festeggeremo domani e effettivamente però questo dato è interessante perché appunto nonostante vi dicevo sono dati il 2013 quindi la legge era già entrata in vigore inizio d'anno perché non era nemmeno un anno completo, 53 amministrazioni hanno posto a dimora nuovi alberi in occasione di questo festeggiamento, di questa ricorrenza e 13 hanno dichiarato di aver attivato dei percorsi specifici formativi per i loro addetti alla manutenzione del verde e 36 hanno promosso delle iniziative di diffusione e di coinvolgimento della cittadinanza oppure comunque educative, formative sul tema. Dunque qui il nostro Presidente mi ha fortemente sensibilizzato sul fatto che noi vorremmo veramente che questo argomento possa essere condiviso e quindi quello che noi stiamo facendo e già lo stiamo facendo con altre persone perché collaboriamo molto col comitato, con Ispra sicuramente, vorremmo farlo con altri e qui ne vedete alcuni, probabilmente non li ho citati tutti però in realtà sono tante le figure e le competenze tematiche trasversalmente coinvolgibili in questa attività. Noi cerchiamo di, come nostro ruolo diciamo istituzionale, di rendere disponibile dell'informazione ma sono veramente tante le persone che potrebbero collaborare con noi sicuramente in primo luogo nella definizione del contenuto dell'indagine, cioè noi potremmo effettivamente avvalerci della competenza tematica di molti per implementare meglio quello che andiamo a chiedere alle amministrazioni in modo tale da fornire per primi alle stesse elementi per fare delle scelte e delle valutazioni più opportune. In particolare adesso abbiamo già lavorato molto sull'implementazione del nuovo questionario quindi dalla rilevazione che abbiamo fatto lo scorso anno e ancora da questa che partirà in primavera lavoreremo in particolare su alcune componenti della legge che sono riferite sia specificatamente alla valutazione delle caratteristiche dei censimenti in termini di georiferimento di effettiva mappatura esaustiva delle essenze presenti sia dell'attuazione di questo vincolo che lega le amministrazioni a piantumare una nuova pianta in occasione di ogni nuovo nato o bambino adottato. E' questa diciamo che sostanzialmente dovremmo chiaramente unificare anche le nostre fonti dati noi per definizione rileviamo i nuovi nati, i nuovi alberi no però vorremmo mettere insieme queste due cose e vedere se effettivamente queste linee procedono insieme. Abbiamo inserito una sezione specifica riferita al problema al rischio del cedimento delle alberature e su questo c'è moltissimo da lavorare perché in termini di sicurezza del patrimonio del verde c'è moltissimo da fare. Noi abbiamo un settore che si occupa di sicurezza sanitaria e sarebbe interessantissimo abbiamo cominciato a guardarlo anche con Giorgio Boldini il problema delle alberature per esempio dei costi benefici di gestire correttamente delle buone alberature stradali in termini di benefici per globali e rischi per esempio la sicurezza stradale. Quindi cosa andrebbe fatto e come? Il bilancio arboreo dovrebbe essere il must. Diciamo che non so quanti comuni nel frattempo hanno visto decadere i loro amministratori alcuni noi li conosciamo da vicino ma ce ne sono molti credo che dall'inizio della legge sono entrati in vigore. Non so se il Comune di Roma ha prodotto un bilancio arboreo a seguito della prematura diciamo decadenza del Consiglio Comunale però questa legge imporrebbe di farlo. quindi imporrebbe a tutti gli amministratori di produrre a ex ante una presentazione del livello e quindi della dotazione e ex post esatto di dirci quanto è stato fatto per consolidare e incrementare questa dotazione. Dalla prossima edizione avremo comunque credo anche informazioni su questo per le città che hanno avuto questa caratteristica della loro legislatura del Consiglio Comunale. Ci sono delle cose altrettante interessanti che riguardano la rigenerazione urbana specifica e quindi per il momento stiamo soltanto chiedendo in modo dicotomico se no siano posti in essere queste iniziative che leggete però su ciascuna di queste si potrebbe aprire un ventaglio di informazioni di maggiore approfondimento per avere raccolta. Considerate che questa indagine è annuale, la svolgiamo online quindi le amministrazioni rispongono a un formulario che è somministrato via web e quindi sostanzialmente ha un certo grado di elasticità e di dinamicità evolutiva quindi veramente esorto chiunque voglia collaborare con noi su questo a procedere, a lavorare insieme. Una delle cose che rileviamo, lo sentiremo poi in seguito è la componente degli orti urbani Mezzogiorno So che sull'orto urbano ci fosse qualche integralista lo so che non lo gradiva comunque è una di quelle tipologie che dicevo prima che hanno la maggiore dinamicità è un fenomeno costantemente in crescita le amministrazioni fortunatamente li promuovono con sempre maggiore intensità e certamente rivestono dei valori altri oltre a quello della valenza ecosistemica tipica e quindi anche culturalmente noi li abbiamo giudicati nell'ambito sia del monitoraggio delle smart city sia soprattutto del progetto BES sul benessere equo e sostenibile nel quale l'Istat lavora su una serie di dimensioni che non sono strettamente macroeconomiche per la valutazione del benessere della popolazione gli orti urbani sono proprio uno degli indicatori considerati perché vengono visti come elemento di innovazione ecosociale quindi ho elencati alcuni ma ovviamente per le varenze che rivestono anche da un punto di vista sociale e di integrazione oltre che educativo oltre che ecosistemico come dicevamo Un'altra cosa che noi abbiamo notato con piacere è che praticamente il Ministero dell'Ambiente che sta progressivamente emanando questi criteri ambientali minimi da applicare per le acquisizioni delle forniture per le amministrazioni fra i primi ha inserito quelli riferiti alla componente verde della gestione dell'amministrazione quindi per alcune categorie merceologiche di acquisto sono stati già emanati i CAM rispettivi l'indagine rileva in un modulo che si chiama Eco Management anche questa componente specifica e sono già un certo numero consistente di amministrazioni quelle che dichiarano di averli applicati nei bandi di gara per le forniture verdi quindi concludendo noi stiamo cercando innanzitutto di riorganizzare i nostri processi interni per cercare di essere il più possibile corrispondenti alle esigenze informative dell'area ambientale globale e quindi credo che a brevissimo opereremo una riorganizzazione interna che dovrebbe finalmente mettere a sistema i nostri settori che si occupano di ambiente ora, territorio e agricoltura proprio perché riteniamo che queste tre componenti debbano assolutamente essere diciamo portate avanti in modo congiunto dobbiamo contestualmente operare in modo diciamo efficiente quindi svolgere le indagini dirette ha certamente il costo maggiore mentre invece lavorare sugli archivi e sui database già esistenti è meno oneroso e certamente più economico quindi è un must per noi mettere a sistema questi giacimenti informativi residenti presso gli archivi amministrativi qualunque si siano chiaramente bisognerà fare un lavoro enorme di metadatatura e di sistematizzazione delle informazioni in modo da renderle confrontabili e mantenere tutte le caratteristiche della qualità dell'informazione statistica però sono tantissimi i dataset che esistono già e che noi dovremmo poter usare insieme in più come dicevo stiamo lavorando moltissimo per cercare di incrementare al massimo le possibilità di georiferire le nostre informazioni in modo da poter offrire a chi è interessato a utilizzare i dati informazione non soltanto per aree amministrative ma anche funzionali e quindi nel caso del fenomeno ambientale tipicamente dovremmo avere un'informazione puntuale il più possibile in modo da che poi possa essere riaggregata per le aree di interesse di ciascuna applicazione di ciascuno studio tematico nel caso specifico di queste indagini che io coordino sui dati ambientali nelle città noi abbiamo già attuato queste linee guida in ampia parte cercando di realizzare delle sinergie e dell'utilizzo di dati già disponibili in particolare l'abbiamo fatto per l'area dei rifiuti con Ispre per l'area dell'energia coinvolgendo l'autority il GSE e una serie di altri produttori di informazione ma su questo penso che per esempio qui col mondo della ricerca ci sarebbe moltissimo a fare lancio una proposta che non so sembrerà peregrina però è una pensata notturna tutto sommato e abbiamo anche visto per esempio su Roma ci ha fatto vedere il professore quante cose ci sono ora senza vincolare mettere le gacci di alcun tipo alla libera ricerca però se riuscissimo a definire un set comune di informazioni che ci consentissero da un punto di vista di database di avere dei puntamenti che ci dicono dove andare a prendere quello che ogni singolo ricercatore ogni singolo tesista ogni singolo borsista fa noi probabilmente non disperderemo qualcosa che poi in realtà resta veramente sicuramente patrimonio della scienza e quindi diciamo del progresso della disciplina tematica ma che difficilmente si poi si riesce a rendere disponibile per tutti in modo in modo congiunto abbiamo un comitato di utenti dell'informazione statistica la Cuis sicuramente ci sono dei rappresentanti anche dell'accademia che aderiscono però vi invito qualora ci siano degli interessi specifici avanzare le vostre candidature perché questo contesto è l'optimo per noi per raccogliere le esigenze degli utenti e cercheremo il più possibile di potenziare la diffusione integrata di informazioni quindi sicuramente per esempio come abbiamo fatto per il nostro ultimo focus sul verde unitamente alle risultanze del censimento dell'agricoltura per la sicurezza stradale con le alberature vorremmo arrivarci e così via tutto quello che sarà valutato utile noi siamo molto dinamici e quindi vi prego di non considerarci degli aree di statistici io in particolare sono una geogra ma che nasco biologa quindi mi sono prestata un totale adattamento e vi esorto a essere altrettanto elastici ringrazio il professore con il quale ho partecipato ai primi seminari dell'IAED quindi mi sono sentita in un porto accogliente visto che è da anni che diciamo sponsorizza la trasversalità vi ringrazio grazie mille perché veramente ci ha fatto scoprire un aspetto dell'Istat diciamo le cose come stanno vedrai quante telefonate ti arriveranno quante mail quante cose perché un'organizzazione di dati così ben fatta e così ben correlata con le nostre esigenze sembra che questa giornata stia appunto rispondendo a queste esigenze perché poi in futuro il comitato penso che dovrà anche sviluppare le verifiche delle cose che si fanno in concreto insomma quindi poi Enrico il presidente sicuramente ci viene tantissimo a essere oltre che Massimiliano il presidente dell'Istat ci viene moltissimo a essere coinvolto su queste problematiche bene detto questo ecco torniamo al CNR finalmente siamo pronti grazie ancora a tutti quanti vi do una rapide carrellata diciamo di quello che è la ricchezza di ricerca che il CNR porta avanti in maniera assolutamente interdisciplinare come accennava appunto Carlo Blasi poc'anzi il dipartimento che io rappresento il dipartimento che si occupa di tutto l'ambiente di tutte le tematiche ambientali e quindi su questo su questo aspetto del verde diciamo affrontiamo anche questo in maniera molto multidisciplinare qui ho rappresentato la città ideale dove però nell'idea iniziale di Piero Deva Francesca mancava il verde e quindi vorremmo inserirlo noi viviamo in un periodo in cui diciamo l'uomo ha influenzato talmente l'ambiente tanto che parliamo di antropocene nell'ambiente urbano è ancora più importante perché in alcuni contesti qui c'è Tokyo per esempio il verde è quasi completamente assente in questo sketch però noi sappiamo essere molto molto importante ed è importante perché il verde di fatto condiziona fortemente l'ambiente sia per quanto riguarda gli inquinanti come vedete in questo semplice diagramma sia per quanto riguarda il calore sia per quanto riguarda la fissazione di gas serra ma dobbiamo considerare anche l'emissione da parte dei volatili volatici organici che vengono emessi da varia natura ma anche dalla vegetazione stessa di questo probabilmente parlerà molto anche Fausto immagino no soprattutto dobbiamo parlare di bilancio di energia perché nel bilancio di energia nella città sostanzialmente il verde inteso come forestazione urbana come isole come accennava appunto poco anzi Carlo Blasi ha un'influenza assolutamente fortissima per evitare quelle che sono le isole di calore qui mostriamo semplicemente non voglio fare grandi lezioni ma mostriamo semplicemente quello che è l'assorbimento di una foglia della luce questa è una parte visibile poi vi mostrerò anche la parte infrarossa quindi la parte trasmessa da una foglia per esempio della radiazione è solo questa curva che voi vedete qui in basso quindi diciamo da un 100% soltanto una piccolissima percentuale viene trasmessa sotto la vegetazione e quindi questo è un fortissimo condizionamento del bilancio dell'energia visto in un range più ampio con l'infrarosso che è la parte più calorifica voi vedete che la parte di assorbimento delle clorofille è in questa zona poi ci sono delle bande in cui ovviamente la vegetazione assorbe un po' meno però ci sono le cosiddette bande dell'acqua dove ovviamente la presenza di acqua all'interno della vegetazione fa assorbire fortemente il calore e quindi poi questo viene già condizionato ma c'è un altro aspetto quindi vedete in particolare che se la luce incidente la luce solare è quella che voi vedete sostanzialmente in giallo al di sotto di una vegetazione raggiunge il suolo soltanto la parte verde una veramente piccola percentuale ma in più c'è un altro effetto la vegetazione traspira dagli stomi che sono questi pori che tutti conoscete sostanzialmente oltre ad assorbire CO2 emette acqua e in questa evaporazione ovviamente c'è una forte assorbimento di calore latente calore latente di traspirazione o evaporazione che sostanzialmente riduce fortemente quello che è il calore sensibile voi vedete in questi due sketch quello sulla sinistra noi abbiamo un calore sensibile al 60-70% laddove c'è vegetazione il calore sensibile si riduce al 5-10% perché la gran parte viene assorbito per traspirare acqua quindi questo in genere è quello che sono le cosiddette isole di calore o la riduzione delle isole di calore perché se in una città noi inseriamo molto verde ovviamente non avremo questo fenomeno del grande calore dovuto alla cementificazione al consumo di suolo agli asfalti e così via dicendo se noi andassimo a vedere su questo diagramma questo è un semplice diagramma che ho ripreso credo dal web voi vedete che la temperatura è molto bassa nelle aree rurali nelle aree a parco mentre si innalza molto la dove ci sono molte pavimentazioni molto cemento la vegetazione ha anche un effetto su quello che è il cambiamento climatico noi sappiamo siamo in una situazione di aumento di gas serra soprattutto questo è il grafico della CO2 misurata a Munaloa le Hawaii oggi 2015 siamo ben al di sopra di 400 parti per milione quando per gli 800 mila anni passati noi sappiamo dalle carote di ghiaccio antartiche che nel mio dipartimento si studiano non siamo mai andati al di sopra di 280 290 parti per milione per 800 mila anni poi negli ultimi 100 anni siamo riusciti a portare questa percentuale al di sopra dei 400 questo ha un effetto importantissimo ma sappiamo tra l'altro che noi abbiamo la possibilità con la vegetazione e in parte con gli oceani di avere uno sconto di tutto quello che stiamo facendo di negativo perché se tutto quanto rimanesse in atmosfera noi avremmo una concentrazione elevatissima di CO2 fortunatamente solo il 44% di quello che emettiamo come realtà industriali si ferma in atmosfera perché il 29% viene circa viene assorbito dagli ecosistemi terrestri e dalle foreste e il 26% finisce negli oceani purtroppo causando problemi di acidificazione ed altro ma che non trattiamo oggi oggi c'è molta attenzione per quello che è l'effetto di riduzione della CO2 in ambiente urbano proprio dalla vegetazione urbana dal 29 gennaio 2008 anche la Commissione Europea ha lanciato il cosiddetto patto dei sindaci sostanzialmente per cercare di ridurre le emissioni e quindi utilizzare la vegetazione in area urbana per l'abbattimento della CO2 poi grazie alla legge che Massimiliano Attelli ha voluto e che è fortemente e per questo noi tutti lo apprezziamo per questo è qui ha portato a questo noi abbiamo studiato nel CNR alcune linee guida per esempio per la città di Firenze sulla foresta urbana per l'abbattimento di CO2 ma il verde urbano non serve solo a ridurre la CO2 perché lo assorbe e quindi lo fissa nel legno e nella sostanza organica delle piante ha un effetto di abbattimento perché c'è un forte risparmio energetico dove noi abbiamo vegetazione questi sono alcuni esempi di risparmio per albero piantato in un ambiente urbano perché dove ci sono alberi dove c'è vegetazione ovviamente abbiamo minori a onditi calore come abbiamo visto precedentemente quindi minori spese di condizionamento in estate ma anche minori spese di riscaldamento in inverno le infrastrutture verdi le verticali sono state tutte citate io credo che dovrebbero sempre più parlare di architettura integrata tra verde ed efficienza energetica perché l'efficienza energetica passa attraverso il verde con costi estremamente contenuti rispetto a quello che sono i costi di pura coibentazione di strutture grigie come è stato detto noi ci occupiamo anche con i nostri istituti di inquinamento atmosferico questo è uno sketch che ci dice quello che è il trasporto e l'accumulo di inquinanti sia in ambiente urbano il trasporto a lunga distanza noi sappiamo anche che ci sono alcune specie che viaggiano molto a lunga distanza e la vegetazione ha un forte effetto su questo perché noi abbiamo che tutte queste sorgenti che spesso sono concentrate in ambiente urbano e periurbano a causa del riscaldamento domestico degli autotrasporti e delle zone industriali nelle periferie urbane si accumulano in queste aree e quindi abbiamo una forte emissione di ozono particolato piogge acide e quant'altro e tutte queste vengono abbattute sostanzialmente perché gli alberi e la vegetazione fungono da filtri o attivi o passivi sostanzialmente e quindi accumulano o assorbono o accumulano queste sostanze o ne frenano la diffusione per esempio dove ci sono dei corridoi verdi dove ci sono delle barriere verdi queste abbattono fortemente il trasporto e lo spostamento di particolati e di inquinanti di varia natura questo ad esempio riporta lo studio fatto da Giuntoli sull'abbattimento di particolato quindi di aerosol in varie città degli Stati Uniti Pechino Santiago e quant'altro vedete come il PM10 rimosso sia in quantità assolutamente significativa e quindi un effetto molto positivo sulla salute umana questa per esempio è una studio nostro nell'area di Terni dove la Tissen Group è una delle fabbriche più importanti che però ha un'emissione di particolato importante noi abbiamo fatto i nostri ricercatori soprattutto dell'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale hanno fatto studi per studiare appunto il particolato rimosso e l'effetto positivo della vegetazione su questo ulteriori studi oggi riguardano per esempio l'osservazione al microscopio elettronico con analisi elementare di accumulo di queste sostanze all'interno della vegetazione e l'effetto della rimozione di queste questi sono per esempio alcuni esperimenti fatti su Pino Quercia e Pioppo Nero di rimozione dell'ozono atmosferico sostanzialmente trofosferico ovviamente dalle zone di città poi invece abbiamo l'approccio dell'Union Forest Urban Forest e questo approccio ha portato a studiare appunto in diverse zone Villa Borghese a Roma Perugia ed altre città la rimozione di inquinanti da parte delle forestazioni urbane questo è un lavoro del collega Carlo Calfapietra vedete la rimozione di ozono di anidride di solforosa monossido di carbonio particolato da parte di queste foreste urbane e l'effetto è assolutamente positivo le foreste però e le piante arbore ma tutte le piante in qualche modo possono emettere sostanze volatili come terpenoidi isoprene e quant'altro questi possono tra l'altro interagire con lo zono atmosferico e con altri inquinanti atmosferici industriali e andare a peggiorare sostanzialmente quindi l'inquinamento fotochimico dell'atmosfera in zona urbana e quindi di questo noi dobbiamo assolutamente tener presente quando si studia l'ambiente urbano condivido quello che diceva Carlo cioè utilizzare prevalentemente specie autoctone però anche su questo soprattutto nelle zone vicine a scuole vicine a zone sensibili dobbiamo tener presente anche che alcune delle piante autoctone magari emettono queste sostanze e quindi possono essere magari condividete con altri affini che è comunque adattabile a quell'ambiente ma che non hanno questo inconveniente quindi questo è un altro terreno di studio molto importante così come il Mediterraneo è un hot spot per questo aspetto perché con le nostre alte temperature estive con l'inquinamento fotochimico che noi abbiamo nelle zone periurbane queste emissioni possono interagire fortemente e quindi dare prodotti inquinanti secondari cosiddetti qui riportiamo ad esempio alcuni dei forti emettitori di sostanze biogeniche come alcune specie di querce i platani i pioppi i salici ma addirittura le canne di palude l'eucalipto e quant'altro sono tutti forti emettitori e quindi devono essere in qualche modo considerati in questo senso recentemente il mio dipartimento si è occupato di uno sviluppo di un progetto PON nelle aree di convergenza e proprio in alcune abbiamo messo insieme dei sistemi in rete dei punti di monitoraggio tra l'altro devo dire che proprio oggi che il 20 novembre è stato lanciato un progetto europeo un'infrastruttura europea che ha i cosi integrated carbon observing system ed è stato firmato oggi l'ERIC cioè lo strumento legislativo che mette insieme questa infrastruttura di cui queste infrastrutture di cui vi sto parlando andranno a far parte a livello di rete europea questa è un'infrastruttura appunto per la chiusura del bilancio del carbonio quindi del gas serra in questo esempio noi abbiamo installato proprio un esempio di infrastruttura molte di queste infrastrutture sono in aree forestali quindi in montagna in alta montagna questa invece è in un ambiente urbano all'interno del parco di Capodimonte di Napoli perché proprio intendiamo studiare l'interazione tra la vegetazione del parco di Capodimonte con l'inquinamento e con l'area urbana queste sono le infrastrutture mostrate quindi a una torre con misure di covariance cioè di flussi di carbonio ed energia tra la vegetazione e l'atmosfera e lo studio degli inquinanti connessi poi partecipiamo con i nostri istituti al progetto Million Tria New York di cui non mi dilungo perché un po' è stato accennato anche dal collega Ciccarese qui vengono riportati per esempio l'accumulo di carbonio dovuto a queste piante a seconda delle diverse mortalità e delle diverse piantumazioni ma l'IBAF questo istituto del mio dipartimento si occupa anche di un tool informatico sempre in questo ambito per studiare quali sono gli effetti degli inquinanti l'assorbimento degli stessi le emissioni di VOC ma anche l'allergenicità delle specie perché questo è un altro elemento di cui dobbiamo tenere presente quando andiamo a piantumare delle foreste urbane o delle zone verdi con questo approccio molto rapidamente Carlo Calfapietra che è appunto il collega dell'IBAF è il coordinatore di quest'azione COST FP1204 che riguarda appunto l'approccio alle infrastrutture verdi associazione ambientale gli aspetti sociali nello studio della forestazione urbana partecipano molti paesi come vedete sia europei sia extra europei si occupa di questi aspetti di cui abbiamo appena parlato ci sono diversi work packages che si occupano appunto sia delle implicazioni ambientali sulla biodiversità ad esempio e sui vari aspetti ambientali stessi ma anche gli aspetti sociali e culturali quindi l'aspetto estetico e quindi associato con l'architettura con il livello di gradimento da parte delle popolazioni la salute psicofisica a cui si è fatto pure riferimento che è molto importante ma anche con l'insegnamento e gli aspetti ricreativi ovviamente la governance di questo che si collega a legislazioni importanti e d'avanguardia come quelle di cui l'Italia si è dotata appunto e i vari cosiddetti stakeholder o portatori di interesse su questo aspetto così come la disseminazione l'importanza del verde l'importanza per la salute non solo psicofisica ma anche la salute respiratoria la salute che porta ad abbattere quella mortalità che è stata mostrata da chi mi ha preceduto sostanzialmente che nelle città italiane è ancora troppo alta grazie alle infrastrutture verdi possiamo molto migliorarla tra l'altro qualsiasi infrastruttura ma soprattutto ideata e pensata come un bosco urbano come un ecosistema urbano non come piante isolate come è stato mostrato che non hanno assolutamente nessun senso tende ad aumentare la biodiversità fortemente perché noi sappiamo che in questi corridoi in queste isole si accumula non solo biodiversità favorevole da un punto di vista della vegetazione ma anche zoofauna soprattutto gli insetti si accumulano insetti e microfauna favorevole che in generale tende a controllare per esempio i fitofagi negativi per le piante stesse e quindi ad avere una sorta di equilibrio ecologico che consente di non dover fare per esempio trattamenti con pesticidi o altre cose per proteggere le piante stesse quindi questo porta a un equilibrio che è assolutamente favorevole per la città e favorevole per l'ecosistema e per la biodiversità io mi fermo qui e vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza senti Enrico ti ringrazio molto perché adesso ci abbiamo infatti due o tre interventi che abbiamo subito dopo molto specialistici molto dedicati alla ricerca ma era anche un po' la voglia di questa giornata di far capire come questa tematica offre anche ai giovani e ai studenti i studenti di master noi abbiamo un corso di monitoraggio ambientale monitoraggio e riqualificazione ambientale nell'ambito delle scienze ambientali ossia c'è uno spazio importante e devo dire che questo offre delle speranze delle possibilità c'è un campo tu hai dimostrato come non solo è vasto il campo della ricerca su questo argomento sempre ricerca integrata ma è anche vasto il campo dell'applicazione poi di questo perché ce n'è un reale bisogno bene adesso cambiamo il gruppo dei relatori invito a venire al tavolo ovvero